Fernandez, Hiller pronto a scattare Maggio, lo vede Hiller, pallone per Maggio, il controllo in area di rigore, Maggio ancora, poi Cagliecon, una deviazione, gol del Napoli, in posizione regolare, il gol a Iguaina, 37esimo, 1-0, stava premendo il Napoli, ha raccolto il frutto della sua pressione. Il frutto della sua pressione, giustamente, era solo una questione di tempo, Cagliecon ha tenuto bassa la palla, Iguaina era sulla traiettoria, bravissimo nel deviarla in porta. Da rivedere l'azione che ha dato il vantaggio alla Napoli. Anche perché i giocatori della Lazio vorrebbero il suo gioco. Infatti lo volevo rivedere anche per quello, allora Maggio, controllo non perfetto, però c'è un rinvio corto, Cagliecon, no, 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 regolarissimo la posizione di Iguaina, direi non c'è nulla da dire su questo. Nulla da dire, c'è sia lì che tiene in gioco e quindi è la posizione regolare. Bravo Iguain nel tempo di reazione. Sì, perché era potente la conclusione, cercava ovviamente il tiro Cagliecon, sarebbe finito fuori quel pallone. Molto veloce, Iguain bravissimo nel tempo di reazione, è stato bravo a colpirla con il tacco e a metterla in porta. Berisha non ha potuto fare altro che prendere la palla in porta perché era troppo ravvicinato e quindi non aveva il tempo per reagire.